sentire di abbattenere ad una comunità con uguali diritti e con uguali doveri e questo appunto in vista ideologico, l'alcunista più pratico, noi dobbiamo finalmente realizzare le infrastrutture che non abbiamo realizzato e per esse i parcheggi, dobbiamo finalmente riottenere che la bella vecchia marina di Alimuri riaccresca e si riporta nelle condizioni iniziali, quindi il ripascimento della spiaggia di Alimuri, quindi se mi devo fermare a tre spiagge finalmente ricondotte alle loro condizioni originarie, parcheggi finalmente costruiti e compiuta attuazione di una politica generale di taglio degli sprechi e di ottimizzazione delle nostre risorse.